salve 30 agosto vi volevo far vedere il risultato del diradamento di questo mela qui allora qualche mela si è persa per strada adesso ne ho una cinquantina circa vediamo un attimo dall'alto la pezzatura non è proprio tanto grossa però dobbiamo aspettare ancora 40 giorni dunque penso che cresceranno ancora un pochettino e allora vediamo il risultato una due tre quattro mele poi andiamo più in giù mi sembra anche abbastanza ripartito vediamo il risultato qui basso ce ne sono tre tre poi lì ce ne sono altre due altre due altre tre quattro qui dietro sono un po in ombra però non succede niente ho fatto un po di potatura verde fatto una cimatura qui a un centimetro e mezzo due anche qua fatto un po di cimatura verde in maniera che possa germogliare qualche gemma dietro esempio anche questa qua è già a fiore anche questa è a fiore per il prossimo anno questa qua se si vede questa questa qua se si vede boh idem no anche questa forse un'altra gemma a fiore allora dopo due tre potature mirate il melo si è inrobustito e ho visto anche che con concimazione opportuna si è rinforzato e il risultato è buono se si vede un po meglio da qua ecco poi vi farò un altro video al momento della potatura ecco questi sono gli altri meli brina piccolini ma pieni di meli vediamo se si vede alla prossima grazie a tutti grazie a tutti